ciao ragazzi ebbene sì è arrivato un altro pacchettino andiamo a vedere subito che cosa contiene eccoci qua ragazzi andiamo a vedere cosa c'è all'interno io l'ho già aperto perché doveva essere sicuro che ci fosse il materiale che ho ordinato ma no anzi non vi faccio vedere vi aspetto qui per il prossimo video per farvi vedere che cosa c'è all'interno del pacchettino e che cosa ci farò un ciao vai ragazzi al prossimo video